Ben ritrovati tanti e diversi gli argomenti che troverete all'interno del nostro Tg, ma andiamo per ordine e cominciamo dai titoli. La Corte d'Appello di Catanzaro ha assolto la psichiatra Luigi Arturo Ambrosio e Franco Antonio Ruffolo, i professionisti coinvolti nell'inchiesta Villa Verde. Dopo le dimissioni del primario del pronto soccorso dell'annunziata, cresce la preoccupazione dei cittadini, ma l'azienda Razzicura presto arriverà il nuovo, nel frattempo Zinno assumerà l'incarico ad Interim. Sono numerosi disservizi di municipi alla società di discussione dei tributi segnalati dai cittadini di Cosenza, il sindaco Caruso, vogliamo vederci chiaro. Dopo un lungo tira in molla, il PD ha deciso di appoggiare la candidatura dell'uscente Flavio Stasi per le amministrative di giugno a Corigliano Rossano. Al termine di una settimana di forti fibrillazioni, il tecnico del Cosenza, Viali in conferenza stampa, si dice fiducioso su un pronto riscatto della sua squadra. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro Tg, in apertura la cronaca giudiziaria. Una inchiesta, 13 anni fa, quella di Villa Verde, oggi arriva la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, assolti con formula piena. Due professionisti, si tratta dello psichiatra Luigi Arturo Ambrosio e di Franco Antonio Ruffolo, entrambi coinvolti nell'inchiesta, i particolari del nostro servizio. Una vicenda lunga, 13 anni, il cui esito questa mattina è stato scritto dalla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha assolto con formula piena, ossia perché il fatto non sussiste, lo psichiatra Luigi Arturo Ambrosio, difeso dagli avvocati Franco San Marco e Innocenzo Palazzo, e Franco Antonio Ruffolo, difeso dagli avvocati Anna Maria Domani, coedenzò Belvedere dai reati di concorso esterno nella cosca Fora Stefano e di falsa consulenza in ordine alla compatibilità carceraria dello stesso. I professionisti coinvolti nell'inchiesta Villa Verde sul presunto sistema che avrebbe consentito ai boss di sfuggire al carcere attraverso false perizie mediche. In primo grado, il dottor Luigi Arturo Ambrosio era già stato assolto dal reato di corruzione in concorso con il perito Quattrone, nonché dal reato di concorso esterno nella cosca Mantella per i reati che oggi la Corte d'Appello ha ritenuto insussistenti. Soddisfazione sta espressa dai legali, i quali in una nota hanno sottolineato quanto questa storia abbia inciso profondamente sulla vita dei professionisti, ai quali oggi, dopo tanto tempo e tanta sofferenza, viene restituita dignità, confermando l'irreprensibilità e la perfetta linearità dei comportamenti. Parliamo adesso di sanità, ve l'abbiamo parlato nel corso dei nostri telegiornali delle dimissioni del primario del pronto soccorso, dell'annunziata di Cosenza, una vicenda che preoccupa i cittadini, ma l'azienda rassicura presto l'arrivo del nuovo primario. Nel frattempo Zinno assumerà l'incarico ad Interim. Vediamo. Dopo le dimissioni rassegnate per motivi personali dal primario del pronto soccorso di Cosenza, Pietro Scrivano, che dal 2022 dirigeva il Dipartimento di Emergenza, numerose le reazioni, i commenti e le preoccupazioni. Cosa accadrà adesso? Questa è la domanda più frequente, che giriamo al direttore sanitario Francesco Zinno, che ha assunto ad Interim la gestione dell'importante unità operativa. Il dottor Scrivano ha dato la dimissione, d'altro canto, per esigenze personali e quindi non sindacabili. Sicuramente è una perdita importante. Tuttavia, rientrando il dottor Scrivano nella sua precedente occupazione, che è quella di direggendamento dell'unità operativa, il pronto soccorso in questo momento comunque non ha vacazio di gestione. Per ovvi motivi ho assunto per qualche giorno l'Interim di questa unità operativa, che sarà a brevissimo affidata a professionisti interni nell'attesa di valutazioni future e di sostituzioni definitive. Certo, il pronto soccorso resta sempre un punto nevralgico, dal quale provengono le cospicue, ripetute e allarmanti rimostranze degli utenti. Luogo centrale per l'erogazione dei servizi sanitari dell'annunziata costretta a sobbarcarsi il preso di un'intera provincia che gravita attorno al nosocomio Bruzio. Oltre 120 gli accessi quotidiani che attualmente sono gestiti grazie anche all'apporto di 22 medici, dei quali ben 14 sono professionisti provenienti da Cuba. Adesso si dovrà procedere all'individuazione del nuovo primario. In questi giorni, al di là del mio interim formale, c'è un sostituto individuato all'epoca dal direttore dottore Scrivano. Adesso è troppo presto per sapere come agiremo, se agiremo con un nuovo bando, se attingeremo a banti esistenti o quant'altro. Sicuramente il pronto soccorso è un'entità talmente importante che deve avere una continuità di gestione. A rendere ancora più difficile la situazione, aumentando le criticità quotidiane, le gravi carenze strutturali. In questo momento ci sono dei lavori di ampliamento del pronto soccorso e di adeguamento che dovrebbero terminare a breve, entro qualche mese. Le difficoltà sono rese più marcate dagli spazi angusti. È chiaro che questo sacrificio, che già il paziente di suo fa, è richiesto perché il pronto soccorso andava adattato alle vigenti norme, ma anche alla buona accoglienza del paziente. Quindi il nuovo pronto soccorso sarà tre volte l'attuale spazio. I cittadini, gli utenti, vorrebbero una volta per tutte che il pronto soccorso dell'annunziata si trasformasse in un lasso di tempo breve, in un luogo dove alla richiesta di sanità si rispondesse in maniera celere, esaustiva e confortante. Non è più possibile perpetuare nel tempo situazioni di difficoltà, ore di attesa, in spazi angusti e penalizzanti per i pazienti. Restiamo a Cosenza. Parliamo però di tributi perché sono tanti disservizi di municipia. la società di riscossione dei tributi segnalati dai cittadini di Cosenza. Il sindaco Caruso lo dice anche ai nostri microfoni. Vogliamo vederci chiaro. Vediamo. Ancora problemi per i cittadini di Cosenza alle prese con le questioni relative alla riscossione dei tributi. Ancora critiche nei confronti di municipi e la società giudicatrice del servizio di riscossione che opera il regime di prorogazio. Sono diverse elementi da parte dei cittadini, delle quali si è fatto portavoce anche il sindaco Franz Caruso. Sul banco e gli imputati il non corretto funzionamento del call center che non permette ai cittadini di contattare facilmente l'agenzia. Chi poi si reca personalmente è costretto ad affrontare interminabili file. I cittadini del resto chiedono spiegazioni per diverse questioni, magari di natura burocratica, ma in alcuni casi è anche accaduto che l'agenzia faccia pervenire ai contribuenti bollette già pagate che quindi vengono inviate una seconda volta per la riscossione. Trattasi ovviamente di errori, ma anche di problematiche che occorre risolvere perché simili situazioni creano ansia e preoccupazione nei cittadini. È una iniziativa che io ho preso proprio perché sono stato destinatario di una serie di lamentele da parte dell'utenza cittadina rispetto al cattivo funzionamento del servizio di riscossione. Sono quelle le problematiche indicate nel servizio, il mancato funzionamento del call center, le file interminabili, le bollette duplicate, gli errori nei ruoli. È un problema che io avevo già sollevato in precedenza. Abbiamo avuto interlocuzioni con municipi che bisogna ricordare ha paltato un servizio esterno al comune e che agisce in regime di prorogazio in attesa della valutazione del progetto di finanza che dovrà dare una soluzione a queste problematiche. Però in questa interlocuzione avevamo chiesto, e c'era stata anche data assicurazione, che ci sarebbe stata un'implementazione di personale proprio per dare risposta alle esigenze di una cittadinanza che ha diritto ad essere ascoltata, ad essere ricevuta e a vedere risolti i propri problemi. Noi registriamo che ci sono file interminabili, che il call center non funziona e che c'è un comportamento nei confronti dell'uttenza che non è proprio ortodosso. Per cui sono intervenuto direttamente con i vertici di municipio e l'ho fatto anche pubblicamente perché io ritengo che il dovere del sindaco sia anche questo. Pur non essendo responsabile diretto nella gestione del servizio, io voglio che il servizio sia il migliore possibile e soprattutto che sia, per come dice la stessa parola, al servizio del cittadino. Per cui sono intervenuto in questa direzione e aspetto anche che ci siano risposte immediate da parte di municipio alle mie richieste. Ci spostiamo a Corigliano Rossano, parliamo di politica, di amministrative, perché dopo un lungo tira e molla il Partito Democratico ha deciso di appoggiare la candidatura del sindaco uscente, parliamo di Flavio Stasi, per le amministrative che sono calendarizzate già a giugno. Vediamo. La sfida è ormai delineata. Da un lato il centrodestra unito, insieme ad Azione, a sostegno alla candidatura di Pasqualina Straface, dall'altra parte il sindaco uscente Flavio Stasi che ha incassato il sostegno al Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico e non era scontato né in un caso né nell'altro che si arrivasse ad un'unità di intenti. Parliamo ovviamente delle elezioni comunali di Corigliano Rossano. Per quanto riguarda Stasi, a Corigliano Rossano si è concretizzato così l'idea di campo largo. Questo centrodestra ha relegato la città di Corigliano Rossano all'area di vergogna e smarrimento, detto alla deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino, le forze sane devono far fronte comune contro chi vuole solo mettere le mani sulla città. Una chiamata quindi all'alleanza con il PD che è stata recepita e sposata agli esponenti del Partito Democratico sia a livello locale che a livello regionale. Secondo gli esponenti Demi, infatti, il sindaco avrebbe riconosciuto l'importanza del Partito Democratico nello spingere la coalizione alla vittoria. Prima schermaglia dunque di una campagna elettorale che è già in corso nella città più popolosa della regione fra quelle che andranno al voto i prossimi 8 e 9 giugno che vede due schieramenti pronte a dare battaglia su diversi temi, fra i quali certamente Tribunale, 106 e Trasporti. Siamo alla cronaca che ci porta a Reggio Calabria il gesto altruista di un passante che nella città dello Stretto è intervenuto in soccorso di un anziano derubato da due donne. L'uomo, un 91enne, aveva appena ritirato la pensione quando è stato avvicinato da una coppia di malfattrici. Vediamo. Aveva appena riscosso la pensione quando è stato avvicinato da due donne che lo hanno distratto sottraendogli il denaro che aveva riposto nella tasca sinistra dei pantaloni. La brutta disavventura è capitata dal 91enne di Reggio Calabria ingannato dalla coppia di malfattrici di nazionalità straniera che una volta messo a segno il colpo si sono andate alla fuga. L'anziano, accortosi del furto ha provato inutilmente a seguirle ma il suo tentativo ha attirato l'attenzione di un passante che, compresa la situazione, ha deciso di intervenire riuscendo a fermare una delle due donne bloccandola fino all'arrivo delle forze dell'ordine. L'uomo ha consegnato la donna che aveva con sé parte del denaro sottratto all'anziano e ai carabinieri che l'hanno accompagnata in caserma. La donna è stata denunciata dall'autorità giudiziaria per furto con destrezza aggravato dall'avanzata età della vittima. La refurtiva è stata subito restituita al 91enne. ed è stato presentato all'Università della Calabria un master davvero interessante su mobilità elettrica ed economia circolare un progetto di alta formazione per professionisti green in grado di essere protagonisti della mobilità sostenibile e della transizione ecologica. è il nostro servizio. Due degli elementi essenziali per ridurre l'impatto ambientale e l'inquinamento si fondono per diventare il fulcro del master dei secondo livello su mobilità elettrica ed economia circolare dell'Unical. Il progetto di alta formazione del Dimes dell'Università della Calabria presentato nella sala nuova della provincia di Cosenza accoglierà fino a 30 partecipanti con borse di studio di 20.000 euro per 12 corsisti. Tratta appunto i temi della transizione verso forme di mobilità sostenibile in particolare sull'utilizzo dell'elettrico come alternativa alle forme attuali diciamo disponibili per gli spostamenti sia individuali che collettivi. Infatti il master mira a formare delle figure professionali altamente qualificate e specializzate che siano specializzate appunto nella transizione energetica anche e soprattutto sul tema del riciclo delle batterie che è molto delicato. Professionisti del green per un futuro alle porte. Innanzitutto perché dobbiamo rispettare quelli che sono gli impegni internazionali per la decarbonizzazione previsti per il 2030 e per il 2050 e in ordine al cui settore la Regione Calabria sta avendo un ruolo primario particolarmente attivo. Stiamo lavorando sia come dicevo con azioni incentivanti a favore delle imprese sia per la creazione delle comunità energetiche rinnovabili a favore dei cittadini e imprese. Un territorio che si proietta verso la transizione ecologica. In queste figure trovare quel valore aggiunto sia per il territorio ma anche per il tessuto imprenditoriale. Cambiamo ancora argomento si chiama Informa ed è il giornalino scolastico degli studenti e delle studentesse dell'Istituto Lopiano di Cetraro sul Tirreno-Cosentino. non solo notizie dal mondo della scuola ma uno sguardo attento a ciò che sta attorno nel nome della socializzazione e dell'inclusione. Vediamo. Cercano le notizie e verificano le fonti scattano le foto scrivono e correggono i loro articoli per poi impaginare il tutto e il lavoro dei 25 ragazzi e ragazze della redazione del giornale scolastico Informa pagine che raccontano la vita dei tre plessi dell'Istituto Lopiano con sede centrale a Cetraro voci che trasformano in parole l'importanza di guardare non solo alle dinamiche scolastiche ma anche al tessuto sociale e culturale. Nel giornalino è appena uscito il primo numero crede molto il dirigente scolastico che punta l'attenzione su un aspetto educativo essenziale. Imbarano a correggere gli errori Imbarano a capire che gli errori si commettono in un bassissimo lavoro andando Imbarano a lavorare che cos'è il lavoro e la serietà che bisogna mettere l'impegno e la coerenza che devono avere Imbarano a capire che gli errori ci stanno. Socializzazione e inclusione sono le parole chiave del progetto. Tutti e tre i plessi rappresentano non solo la redazione ma anche un momento di socializzazione tra diversi studenti di diversi indirizzi che grazie a questo mezzo di comunicazione che è appunto il giornalino scolastico riescono a collaborare a socializzare articoli per conoscere e per divertirsi In questo primo numero abbiamo una serie di articoli che riguardano la rubrica della scuola con tutti gli eventi che sono avvenuti all'interno della scuola durante il corso di quest'anno ma anche la pagina della cultura ma è anche lo svago quindi qui abbiamo una serie di attività in cui i ragazzi cercano di esprimere la loro completa libertà nel divertirsi perché per noi fare giornalismo è anche divertirsi Siamo allo sport siamo al calcio al termine di una settimana di forti fibrillazioni il tecnico della Cosenza in conferenza stampa si dice fiducioso su un pronto riscatto della sua squadra il Catanzaro invece punta il Como vediamo Nessuna polemica nessun chiacchiericcio ciò che è avvenuto nella settimana dopo la sconfitta con il Brescia chiarito da mister Viali in apertura della conferenza stampa che precede la partenza per Piacenza qui bisogna capire bene una cosa quello che conta in queste ultime sette partite è il bene comune società città e tifosi ok il primo passo per dimostrare questo lo deve fare l'allenatore quindi io martedì mattina di fronte ai miei calciatori ho detto questa cosa qui il bene comune e non personale quindi anch'io ero pronto a togliermi mi toglievo io non è un problema perché conta solo il risultato finale quindi se pretendo che i miei calciatori abbiano questa mentalità io devo essere il primo a dare l'esempio di mettere in discussione me stesso per il bene comune sette gare per raggiungere la salvezza il gruppo ha lavorato bene dopo una settimana caratterizzata dal ritiro forzato dobbiamo essere bravi a mantenere tutto il lavoro che io vedo tutte le settimane e ho visto anche in quelle precedenti tenercela la vogliamo pulire laviamola ma ce la dobbiamo mettere domani in campo Tutino è il leader dei tifosi lo dicono le prestazioni i gol realizzati fin qui e il carisma fuori e dentro il campo e lo conferma anche Viali Tutino ha lavorato chiaramente sempre di più con il gruppo partirà dall'inizio e poi vedremo chiaramente quante ne avrà dentro la partita però è un giocatore per noi troppo importante e quindi deve assolutamente in partite del genere diciamo così partire e soprattutto tirare le file sotto l'aspetto della determinazione e della leadership che ha in questo gruppo La settimana è stata aperta dal confronto con i tifosi e poi l'arrivo e il ritiro di ieri del presidente Guarascio che ha portato ottimismo e fiducia Siamo molto contenti che sia passato e soprattutto che sia potuto passare e ci ha trasmesso quindi a maggior ragione dovremo fare domani una partita eccezionale Dall'altra parte il mister Zaffaroni ha preparato la sfida con entusiasmo e determinazione dopo la bella prova con la Cremonese ma in casa i suoi non vincono da quattro partite Da un'altra gara ovviamente molto tirata dove entrambe le squadre vorranno fare il risultato e quindi sarà una partita molto equilibrata e giocata molto anche sull'aspetto emotivo e nervoso e quindi dovremo farci trovare pronti Sfida ad alta quota tra Catanzaro e Como si scontrano due fra le formazioni più in forma del campionato i Lombardi puntano a restare vice capolista mentre i giallorossi ad avvicinarsi il più possibile al sogno promozione diretta L'ho detto il calcio è uno sport bellissimo nel momento in cui ci sta questa passione questo trasporto questo sentimento nei confronti di una squadra è qualcosa di bello bello da parte dei tifosi ma anche da parte nostra vivere queste situazioni è chiaro che voglio dire ogni volta che si vince una partita si alzano le aspettative ci si esalta ed è una cosa molto molto positiva per quanto riguarda i tifosi per quanto riguarda la piazza io da parte mia in questa settimana chiaramente ho lavorato sulla partita e troviamo un avversario forte un avversario diverso da quella dell'andata perché sono andati a lavorare su altri aspetti e hanno alzato la qualità del palleggio la qualità del gioco hanno alzato diciamo anche sotto l'aspetto di non possesso l'attenzione su tenere la squadra corta essere sempre in movimento in funzione della palla quindi di conseguenza per noi sarà un bel test noi stiamo bene abbiamo qualche acciacco ancora però nei massima ci sono tutti i presupposti perché comunque questo entusiasmo è chiaro che viene trasmesso a questi ragazzi che si sentono forti si sentono sereni tranquilli e quindi di conseguenza noi da parte nostra possiamo fare la nostra partita e noi chiudiamo con le previsioni del tempo il weekend insomma si annuncia rovente vediamo le previsioni meteorologiche ci indicano che ci attende un bel weekend d'aria di primavera quasi estiva per via dell'arrivo di un anticiclione subtropicale il Narciso proveniente dal Nord Africa che come mostra la figura 1 porterà delle correnti d'aria calde che sono evidenziate da questo colore arancio-rosso avremo dunque delle belle giornate di sole con cieli prevalentemente sereni e giusto qualche possibile velatura passeggera le temperature sono in aumento sia nei valori minimi in cui i valori notturni della scorsa notte che si sono assestati attorno ai 10 gradi in verde c'è nel passavalori più alti vediamo in arancio chiaro così come nei valori massimi che raggiungeranno domenica picchi attorno a 27 gradi superando le medie stagionali i venti sono deboli o al più moderati provenienti dai quadranti settentrionali l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da tempo variabile per l'arrivo di una nuova perturbazione ed è davvero tutto ci fermiamo qui grazie per essere stati con noi grazie a regia a Michele Cava e a Messino da Giuseppe Costanzo noi vi auguriamo un buon proseguimento grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti